In questa guida andremo a vedere come risolvere un problema che sta riguardando, che sta affliggendo gli utenti che hanno deciso di installare Audacity nel formato Flat Park. In particolar modo questo problema è stato segnalato per gli utenti di Linux Mint ma anche per gli utenti di PopOS. Il problema è stato segnalato ormai da diverso tempo. Le prime segnalazioni di questo bug sulla pagina relativa ad Audacity in formato Flat Park sono stati segnalati, se non ricordo male, ad agosto del 2022. Sto registrando questo video a marzo, quindi il problema è conosciuto, però ancora nessuno ci mette mani. Molto probabilmente dipende soltanto da chi ha compilato, da chi ha realizzato il pacchetto di Audacity in formato Flat Park. Attualmente c'è un workaround che consente di risolvere il problema e vi spiegherò a breve come risolverlo. Qual è il problema? Andiamo a lanciare Audacity e lanciando Audacity, in questo momento sono su Linux Mint 21.1, ecco qui c'è un messaggio che c'è vista che Audacity non risponde. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare uscita forzata oppure attendere. Ma se clicchiamo su attendi non risolviamo niente, continuerà a girare a vuoto. Il workaround consiste nell'utilizzare un'applicazione chiamata FlatSeal che serve a gestire i permessi delle applicazioni in formato Flat Park che potete installare in formato Flat Park direttamente dal vostro gestore delle applicazioni. E vi spiego adesso come fare. Quindi avviamo l'applicazione FlatSeal, posizioniamoci su Audacity e andiamo nella sezione, questa qui, riguardante il file system. Alla voce altri file abbiamo questa voce preimpostata, xdgrun.pipwire0. Andando a deselezionare questa voce a cancellarla, come per magia, Audacity inizierà a funzionare correttamente sulla vostra Linux Mint, sulla vostra PopOS, su qualsiasi altra distribuzione vi segnala, vi dà questo problema. Speriamo, speriamo che qualcuno metta mano e fornisco un pacchetto funzionante, out of the box, senza andare a modificare queste impostazioni. Speriamo che lo faccia entro breve tempi. Mi meraviglia, mi meraviglia molto che questo problema è presente dall'agosto e ancora non viene risolto adesso che è marzo. Quindi sono passati un sacco di mesi e il bug è ancora presente. Tiratina d'orecchia, chi di doveri, chi dovrebbe andare a sistemare, a fixare questo problema e non lo sta ancora fixando. Un saluto a tutti quanti, ci riascoltiamo in un prossimo video di Marco's Box. Ciao ciao.